Ciao a tutti, il mio nome è Sara e questo è un video di polemica perché ho bisogno di parlarne e di sentire anche voi cosa ne pensate io devo comprare, vorrei tantissimo comprare, dei libri una trilogia di libri che si chiama The Magicians perché ho visto la serie tv, ne sono ossessionata e voglio leggere anche i libri quindi ho fatto una cosa che penso facciano tutte le persone che vogliono comprare un libro ma non sanno bene se merita, se comprarlo o no io sinceramente lo voglio comprare in inglese perché solamente il primo c'è in italiano ma comunque non importa avevo visto digitando su internet che su IBS c'era questa offerta che da 19 euro costava 9 euro sono andata a vedere e ho avuto delle recensioni anche sotto per sapere magari la gente cosa ne pensava tutte le recensioni erano da 5 stelline, tutte le altre da 2 o da 1 stellina e la cosa che mi ha fatto veramente incazzare non è questo perché per carità i libri possono fare schifo anch'io su Goodreads o su Amazon ho recensito dei libri da 1 o 2 stelline perché facevano relativamente schifo per me però la motivazione che hanno dato le persone che hanno messo 1 o 2 stelline veramente mi ha fatto incazzare da morire perché sono delle motivazioni stupide vi spiego in due parole cosa parla la storia da quello che so io, da quello che riguarda la serie tv perché penso insomma sì che la trama sia la stessa abbiamo un protagonista, Quentin che scopre di avere dei poteri magici viene mandato in una scuola una scuola che è preciso è una scuola tipo post laurea a volte dicono di laurea, a volte dicono post laurea nelle traduzioni non lo so comunque di laurea quindi ha già più di 19 anni sicuramente quindi a meno da quello che posso capire dell'attore o comunque di quanti anni possono avere questi ne avranno 23, 24, alcuni anche 27 quindi non sono undicenni che vengono smistati in varie case anche perché in questa scuola a Breakbill si viene smistati oddio, non viene nemmeno smistato perché in realtà lo fai in base alle tue capacità nei vari come posso dire in base a cosa sei più bravo se sei un fisico, se sei un guaritore se sei un fisico di quelli che tipo prevedono il futuro quelle cose lì e in base all'abilità che appunto tu hai hai dentro di te il nostro protagonista appunto Quentin è un fanboy assurdo perché vi giuro io tutte le volte che diceva qualcosa su Fillory e genere eccetera eccetera tipo sì ti capisco bro ti capisco per me la stessa cosa in pratica lui è ossessionato da questa quadrologia di libri chiamata Fillory e qualcosa dove appunto in Fillory ci sono questi due ragazzini inglesi che come posso dire entrano in questi orologi e dentro questi orologi ci trovano un mondo fantastico e appunto vi sto spiegando questo per dirvi che la gente appunto sotto questi commenti sotto queste recensioni diceva io do una o due stelline perché è palesemente coperto da Harry Potter e dalle cronache di Narnia io ora vi voglio dire una cosa io ho letto un libro mi è piaciuto veramente moltissimo si chiama Half Bed è palesemente coperto da Harry Potter palesemente coperto da Harry Potter come lo è anche Carry On di Rainbow Rowell però comunque io penso che questi libri siano comunque belli Carry On non lo so perché non l'ho ancora letto però Half Bed l'ho letto mi è piaciuto un sacco e per quanto fosse simile a Harry Potter è comunque un bel libro un libro che sta a sé e un libro suo non è Harry Potter visto in versione diversa perché se no non l'avrebbero pubblicato perché se no è plagio quindi no per quanto riguarda cronache di Narnia magari sì devo dire che è vero è strassimile il fatto che questi qua entrano nell'orologio come i Pevens entravano nell'armadio e trovano questo posto che è bellissimo fantastico però io vi lascio sotto il link di un'intervista che ha fatto l'autore dove lui dice sì io ho copiato le cronache di Narnia da quel punto di vista però nelle cronache di Narnia poteva entrare chiunque poteva entrarci il babbo natale le renne elfi streghe bla 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 invece in Fillory che è una versione molto molto più dark ci possono entrare solamente gli umani credo o comunque non può entrare chiunque diciamo solamente chi è il prescelto per poterci entrare perché uno dei due protagonisti di questa storia appunto di Fillory a un certo punto non lascia più entrare mentre a Narnia ci poteva entrare chiunque bastava che aprisse il cavolo di armadio che ne so non posso saperne troppo perché non ho letto le cronache di Narnia non tutte in ogni caso io capisco che tu puoi trovare delle similitudini o comunque cose molto simili però io non trovo giusto che tu devi criticare un libro solamente perché assomiglia a un altro libro nel senso io personalmente non mi piace Orgoglio e Pregiudizio della Austen non mi piace niente della Austen ho provato a leggere un sacco di libri della Austen non mi piace e se io dovessi dire così allora dovrei dire ok non leggo nessun libro romance dove c'è lei povera e lui che è lo stronzo della situazione perché è uguale orgoglio e Pregiudizio no perché no che poi io non li lega comunque è un altro discorso oppure non lo so non si può dire che ogni libro è copiato da un altro perché a mio parere ormai ci sono tutti i libri copiano qualcosa da qualcos'altro è impossibile che un libro sia talmente originale in tutto almeno a mio parere perché ognuno ci potrà trovare quella cosa che assomiglia a quell'altro libro e allora verrà lì a polemizzare polemizzare credo quindi io veramente non capisco perché uno debba dire questo libro a me fa schifo fa schifo non perché fa schifo la scrittura non perché fanno schifo i personaggi non perché la storia non è originale a modo suo ma perché copia Harry Potter perché è simile anche tanto così a Harry Potter cioè io la trovo veramente una cosa ingiusta nei confronti del libro in sé perché magari l'autore ci ha messo l'animo e corpo per scriverlo e anche se a quella piccola cosa uguale a Harry Potter tu debba giudicarlo e dire no mi fa schifo perché vi giuro che lì i commenti erano solamente è uguale a Harry Potter che non cittadini appunto no sinceramente no perché allora io metà dei libri che ho non li avrei mai letti perché ci sono sempre ci saranno sempre comunque delle similitudini tra i vari libri non è cioè è improbabile è impossibile che non ce ne saranno mai perché no no e quindi io non capisco perché voi dovete giudicare dei libri così perché cavolo cioè mi fa davvero 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 incazzare perché cioè non lo so perché in realtà mi fa così tanto incazzare più che altro perché secondo me si sminuisce un libro quando non non lo so lo si rende inferiore solamente perché Harry Potter è diventato famoso perché voi sapete che io amo Harry Potter tantissimo è la mia saga preferita per me è come Filoni per il protagonista delle magicians per me la cosa che mi ha salvato è stata Harry Potter però pensate se al posto di Harry Potter ci fu stato The magicians e allora cioè non avrebbe avuto senso secondo me cioè poi The magicians tutto un tipo di magia è diversa non ci sono bacchette non ci sono gufi usano la magia nelle mani non hanno cioè è diverso e in ogni caso anche Fillory con le conache di Arnia è totalmente diverso Fillory è molto molto più oscuro cioè c'è una bestia che uccide le persone e Arnia al massimo c'era la strega cioè no no cioè non lo so è un video assurdo questo senza un senso probabilmente è solamente un video di mia lamentela per questi commenti orrendi di IBS perché veramente mi danno fastidio perché no e comunque io indipendentemente da quei commenti io comprerò i libri prima o poi perché magari poi io farò un video dove vi verrò a dire sì è vero è troppo possibile Harry Potter per me però non è vero perché alla fine io ho letto Alphabet cosciente che fosse simile a Harry Potter cosciente che la maggior parte delle scene che c'erano tra lui e suo padre erano totalmente uguali alle scene tra Harry e Voldemort o al loro rapporto quindi cioè preferisco leggere almeno non lo so non lo so vabbè fatemi sapere sotto che cosa ne pensate se esistono veramente libri che non siano copiati da altri libri cioè ok dico palesemente copiati danno fastidio anche a me cioè proprio palesemente però oddio se cioè se c'è l'originalità dietro no perché dovrebbe esserlo quindi non lo so fatemi sapere voi cosa ne pensate parliamo di questa cosa perché a me veramente fa arrabbiare tantissimo quindi parliamone e e vabbè non importa noi ci vediamo al prossimo video e bye